Buongiorno, ben ritrovati con la nostra rubrica finanziaria B-Money in compagnia di Terry Barbaro Liva della nostra consulente finanziaria Maria Fiore. Buongiorno Maria. Buongiorno Terry, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Maria, noi stiamo facendo un lungo focus su tutta quella che è la situazione patrimoniale, che è tanta roba, perché sono vari giovedì che ci occupiamo di varie branche, perché stiamo prendendo in considerazione un tassello alla volta, perché davvero è un puzzle molto molto grande, non troppo complesso ma grande, perché attraverso le vostre spiegazioni, le vostre indicazioni, stiamo davvero avendo e creando pian piano un quadro d'insieme. E anche oggi ci rivolgiamo proprio ad uno di questi tasselli, di questo puzzle, perché parliamo sempre, siamo sempre nell'ambito patrimoniale, ma parliamo della longevità. Potrebbe sembrare strano, ma in effetti il patrimonio viaggia sullo stesso binario anche della nostra longevità, perché ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è che più siamo longevi, più il nostro patrimonio può incrementare. Ma al contrario potrebbe succedere pure il contrario, che magari sono più longevo, ho qualche problema in più da gestire e quindi si possono presentare dei meccanismi magari negativi che possono incidere sul mio patrimonio. Ho fatto giusto una panoramica generale, perché poi noi studiamo prima di entrare in diretta, ma procediamo per gradi. Perché? Perché dobbiamo dare prima dei numeri, in riferimento a quella che è la longevità, in riferimento alla nostra Italia, no? Sì, allora la longevità è un argomento importantissimo, perché in realtà viviamo più a lungo, e lo dicono le stime, le stime Istat, anno per anno, e infatti anche per l'anno 2023 abbiamo un'età media per gli uomini di 81 anni e un mese e per le donne di 85 anni e due mesi. Quindi un'età media molto alta, se ci riflettiamo. Tra l'altro in crescita, perché c'è stato appunto un aumento di sei mesi rispetto al 2022 per gli uomini, di cinque mesi per le donne. Cosa positiva, che sono stati raggiunti i livelli pre-pandemia, pre-covid, per gli uomini, che infatti sono ritornati ai livelli del 2019, per le donne c'è stato un avvicinamento, c'è ancora un piccolo getto da recuperare. Sì, ma ci stiamo riprendendo. Quindi sono stime reali, c'è la realtà, e parlare della longevità è fondamentale e necessario. Anche perché parlare della longevità significa anche guardare in prospettiva al futuro della nostra vita, e quindi andare a valutare quelli che sono i rischi connessi anche al vivere più a lungo, come ovviamente può capitare. Ad esempio, più si vive, magari si può andare incontro a dei problemi di salute, quindi magari a delle malattie importanti, e ritrovarsi magari a non essere autosufficienti, o anche a tenere conto che magari più si vive, potrebbe anche rispetto a quello che può anche il tessuto sociale economico attuale, considerata anche quella che è la natalità in questo momento, che rimane comunque ferma rispetto a quelle che sono dati Istat, a 1,20, quindi siamo messi malaccio. Ma questa è una notizia che viene spesso in auge in questo periodo, cioè se ne parla moltissimo. Sì, perché è un dato importante, ovviamente che se c'è una riduzione della natalità e c'è un maggior numero di persone in età, o diciamo oltre gli 80 anni, ci può essere anche poi un rischio di solitudine per alcune persone, oppure un rischio poi di aumento di carico per alcuni soggetti della famiglia che potrebbero ritrovarsi a dover gestire più anziani insieme. Il famoso car giver. Bravissima. Quindi sono argomenti fondamentali perché hanno a che fare col benessere della persona, della famiglia, e anche poi a quella che è la tutela del patrimonio, come accennavi tu prima. Quindi è una di quelle aree che va inserita in pianificazione, no? Se noi lavoriamo su una pianificazione orientata al benessere, è necessario parlare di questi argomenti, che sono molto, molto reali. Esatto, quindi diciamo attuali. Entriamoci in questo focus. Come questa situazione che ha a che fare con la longevità può viaggiare e deve viaggiare insieme alla nostra idea di pianificazione, considerazione ovviamente di quelli che potrebbero essere i rischi. Certo. Allora, il punto, io dico sempre, quando si parla di, diciamo, parlo con i clienti, in generale mi trovo a parlare di quella che è la pianificazione, di una pianificazione orientata al benessere, il punto è capire come vogliamo viverla, questa terza età che, come ci dicono i dati, esiste. Il punto è, io che diversamente giovane voglio essere, quindi come la voglio vivere? Voglio poter, ecco, essere sicuramente in salute. Io penso che quello è l'obiettivo di tutti. Di solito, ricordo mia nonna che diceva, io ci voglio arrivare lucida, cioè questa parola, la lucidità, cioè quindi essere presente a noi stessi, presente a me stessa e poter decidere per me e quindi comunque preservare un po' le mie facoltà psicofisiche. Quindi, sicuramente credo che la salute è il primo, diciamo, il primo obiettivo, no? In ambito di pianificazione. Sicuramente poi è importante poter realizzare, no? I sogni che uno ha in terza età, magari per dire anche viaggiare. Assolutamente, sì. Avere del tempo, poter coltivare i propri hobby. Cose che richiedono comunque un'organizzazione economica, no? Delle risorse finanziarie. Sicuramente poi anche avere la possibilità, ecco, di assistenza laddove dovessi avere delle problematiche connesse al semplice avanzare dell'età, non per forza a una patologia. Quindi sono certa che chiunque nel momento in cui si sieda e rifletta su questi aspetti di vita avrà queste esigenze. Quindi in pianificazione deve necessariamente esistere proprio un cassettino dedicato a queste cose, ma soprattutto lavorare di anno in anno per questo obiettivo che è di lungo periodo. Quindi partendo da questo concetto, il punto è sicuramente preservare la propria salute, perché significa anche preservare di conseguenza anche il proprio patrimonio. Perché laddove in domani dovessi incorrere a un problema di salute e non sono organizzato, dovrei poi magari, ecco, appunto andare a, diciamo, a prendere l'ingere. Sì, ad attingere dal patrimonio che ho messo da parte, che magari mi serviva per altro, no? Per quegli altri sogni che uno ha. Quindi sicuramente lavorare su questo e quindi partendo da quello che è il normale budget di una famiglia, quindi lavorando sul budgeting, andare proprio a stabilire quale può essere la spesa anno sulla base delle spese già, diciamo, avute in precedenza e, ecco, lavorare sulla prevenzione. Perché inevitabilmente la salute passa per la prevenzione, quindi dai check-up che uno deve fare, le esplicite specialistiche laddove sia necessario. Quindi uno ha un'idea già di spesa in quel caso e, a seconda poi di quella che è la spesa, valutare se lavorare con riposorse proprio oppure magari fare ricorso anche a delle polizze sanitarie, a seconda proprio delle situazioni di quella che è la spesa. Esatto. Poi, ovviamente, la prevenzione, oltre che da un'organizzazione economica, passa sicuramente dal rispetto di uno stile di vita sano, no? Questo ce lo diciamo sempre. Quindi dal prestare attenzione a quella che è l'alimentazione, dal fare del movimento, ma soprattutto per quella che è la società attuale, cercare di gestire lo stress. Io credo che sia importante lavorare sul benessere psicofisico, passando soprattutto dalla gestione dello stress, quindi rilasciandosi dei tempi di vita, no? Sì. E di famiglia, per poter un attimino, come dire, prendere fiato, semplicemente. Sì. E anche, mi viene in mente una cosa molto semplice, che sembrerà ridondante, ma anche affidarsi a dei professionisti per organizzare questi momenti della nostra vita rappresenta un modo per sollevarsi dallo stress, perché alle volte vogliamo caricarci di tutto. Dici, vabbè, ma lo posso fare io, ma lo posso fare io. Prima di tutto, non essendo specializzati in certe branche, ci perdiamo il quintuplo del tempo. Certo. E poi, spesso e volentieri, quando andiamo... Delegare. Esatto, bisogna delegare. Dobbiamo imparare a delegare. Delegare e affidarci. Non fidarci, affidarci, quindi scegliere magari, scegliere sicuramente il professionista, per la base dell'esperienza, delle competenze e soprattutto dell'etica, e affidarsi. Esatto. In maniera però consapevole sempre. Questo è necessario. Esatto, perché delle volte per errore diciamo, vabbè, mi affido al medico per il piano che riguarda il mio viver bene, alimentarmi bene, eccetera, ma visto che questa tematica è una tematica a 360 gradi, cioè che tocca tutti i lati della nostra vita, magari anche affidarsi ad un professionista, perché prima facevi riferimento a delle polizze, io non immaginavo che potessero esistere delle polizze che mi coprono anche determinate necessità di vita che potrebbero manifestarsi ad un certo punto, perché ho bisogno di aiuto. Sia in termini realistici, quindi magari non mi muovo in maniera autonoma, ma automaticamente in termini economici. Sì, come poi nella nostra, ti dicevo, sì, esiste proprio e sono inserite in pianificazione e sono prettamente legate al rischio longevità, rischio inteso in senso positivo e negativo ovviamente, e sono le polizze praticamente le critical illness, quindi le polizze che coprono i rischi con essi alle grandi malattie e le long term care, che sono proprio polizze che vanno a coprire il rischio di non autosufficienza, quindi il fatto che io raggiungo una determinata età e in quella età potrei aver bisogno di assistenza e in quel caso ho una copertura assicurativa che mi aiuta a far fronte a questa situazione e quindi a non, diciamo, a essere organizzato sicuramente, a non andare appunto ad attingere dal mio patrimonio che comunque mi serve per altre situazioni. Quindi questo è sicuramente uno degli aspetti di lungo periodo di cui dover parlare, che a volte sai sono argomenti di cui uno dice, beh c'è tempo, invece no, in realtà bisogna organizzarsi prima. E sicuramente va sottolineato, è importante non solo la prevenzione ma anche la previdenza. La longevità è proprio data da previdenza e prevenzione. Sono entrambi aspetti di lungo periodo, entrambi aspetti trattati in pianificazione e sono tra di loro interconnessi perché è normale, se io non ho lavorato bene su quella che è la previdenza, non avrò le risorse necessarie nella mia fase di pensionamento. Pensionamento che dura sempre di più, perché se io vivo più a lungo e appunto saranno di più gli anni in cui dovrò percepire una pensione e quasi sicuramente avrò bisogno di un'integrazione previdenziale, quindi di una rendita aggiuntiva. Quindi in quel caso anche il discorso potermi curare, poter vivere bene nella fase della mia, chiamiamola terza età, sarà appunto legato a quanto io ci ho pensato prima. Quindi il benessere di quella fase dipende dalle azioni che io metto in campo oggi, nel mio presente. Quindi sono argomenti attuali più di ogni altro argomento e di cui è importante parlare, anche perché dal punto di vista del fiscale, lo Stato comunque cerca sempre di incettivare. L'abbiamo visto per la previdenza e ne abbiamo parlato in tantissime puntate di previdenza e non a caso ne abbiamo parlato, ma proprio perché è necessario informare e trattare di questi argomenti, perché sono un'esigenza di oggi e anche dal punto di vista di quella che è la tutela della salute, anche in ambito sanitario, nel momento in cui si sceglie comunque di fare una polizza che sia una polizza per i grandi rischi o che sia per la non autosufficienza, ci sono comunque, sono previsti delle detrazioni all'interno del 730 o dell'unico. Quindi sono concetti da approfondire e anche sapere che in ogni caso non a caso ci sono anche delle agevolazioni fiscali proprio perché sono strumenti importanti da inserire nella propria pianificazione. Quindi sicuramente è importante parlarne. Esatto, e sono passaggi da fare. Sì, sono cose da non accantonare ma da affrontare, anche perché appunto più si è organizzati più si ha quella sensazione di benessere, no? E viene a mancare quella condizione di stress a cui già siamo sottoposti per tante vicissitudini. Sì, anche perché poi, e penso che ognuno di noi avrà vissuto in famiglia queste situazioni, quando un familiare non sta bene, non stiamo bene tutti. Sì, a parte sicuramente per l'impegno, a parte per il discorso emotivo, no? Perché nessuno vorrebbe vedere star male un caro, ma anche perché in effetti la situazione si complica, diciamolo, cioè è più complicata. Esatto. Dal gestire la persona, che magari laddove purtroppo non è autosufficiente, vuoi dire tutta una famiglia a ruotarci intorno, ma anche poi se siano delle esigenze particolari, tipo magari un intervento, tempi più stretti, ci si rende conto di come è importante poter essere già pronti. Preparati. Sì, pronti e preparati. Quindi abbiamo fatto riferimento alla presenza di strumenti, alcuni dei quali appartengono un po' a quella che è la nostra vita anche quotidiana, perché si parla tantissimo del mangiare bene, del camminare, del prevenire, quindi di fare tutti quei check-up che ci possono servire. Sì, la prevenzione è importantissima. Ma dall'altra parte è importante anche avere un piano, pianificare, e questo lo si può fare insieme ad un consulente finanziario. Sì, perché il consulente finanziario in quel momento ti parla di un'esigenza che magari in questo momento non sai di avere, ti aiuta a organizzarti economicamente, partendo già da oggi e lavorando sul tuo bilancio familiare, ma ha anche lo strumento, ti sa indicare lo strumento necessario poi per poter coprire alla professionalità e anche alle volte la lucidità che in alcuni momenti, perché magari proiettarci in avanti non è semplice, farlo magari in una condizione di difficoltà, farlo con una persona che ci dà sicurezza perché conosce razionalmente tutto e ci può appunto pianificare per poi non inciampare. Ecco, questo è un po' il senso di… Lavorare, sì, perlomeno l'obiettivo è sempre quello ecco di lavorare di pianificazione per garantirsi una vita nel benessere, benessere economico, benessere finanziario, benessere psicologico, psicofisico e essere organizzati e tutto poi ovviamente in consapevolezza e la consapevolezza viene quando? Quando ti informi, quando sei lì concentrato e… E quando ti affidi, perché mi è piaciuta tantissimo questa considerazione. Ti affidi nel momento in cui hai chiaro, hai chiaro cosa stai facendo e quindi quello è affidarsi poi perché è troppo semplice, fai tu così e non prendere coscienza di quella che è una propria esigenza. È un lavoro che bisogna fare insieme. È responsabilità tua, concentrarti su cose che sono tue, quindi che riguardano te, la tua persona, la tua famiglia. Quindi il rapporto con il consulente deve partire da questo, dalla consapevolezza che è un momento in cui ti stai informando, stai prendendo coscienza di quelle che sono le tue esigenze e stai trovando una soluzione. Ti stai organizzando e stai trovando una soluzione. C'è un professionista di fronte che ti sta aiutando a trovare la soluzione. Quindi questo è… Perfetto, abbiamo aggiunto quest'altro tassello importantissimo della longevità al discorso più generale del patrimonio. Poi nei prossimi incontri di giovedì andremo sempre di più ancora a prendere in considerazione altri tasselli. Di benessere, sì. Esatto, ma nello specifico io ti ringrazio per averci dato questa bella panoramica perché è anche molto realistica, ci fa immergere proprio nel mondo, nella vita reale, quella di tutti i giorni. Quindi mi raccomando, affidatevi, questa è una cosa fondamentale. Io ti ringrazio, la nostra consulente finanziaria Banca Vodiba Maria Fiore, io vi do appuntamento al prossimo giovedì sempre in compagnia della nostra rubrica Be Money, restate sempre con noi. Grazie da Terry Barbaro Liva. Grazie a tutti, buona giornata. Ogni giovedì alle 10.40 su Radiobase Be Money, rubrica finanziaria con esperti del settore. Be Money, in collaborazione con Banca Vodiba, sede di Salerno. District Manager Enzo Bove. Grazie a tutti. Ciao! Grazie a tutti